Noi abbiamo militanti condannati a pagare di tasca propria 15.000 euro col conto corrente bloccato perché hanno scritto su Facebook che le cooperative si arricchiscono con l'immigrazione clandestina. Noi abbiamo un giudice che è entrato di notte nelle sedi della Lega a ripulire le vostre tasche. Non a portare via i soldi del finanziamento pubblico che la Lega non prende più danni ma a portare via i 10-20 euro di contributi dei pensionati, degli studenti, degli operai, di artigiani che credono nel nostro progetto in un Paese diverso. Se pensano di bloccarci rubandoci quello che è il frutto del nostro lavoro hanno sbagliato a capire. Andiamo avanti più determinati e più arrabbiati di prima. Andassero a sequestrare i conti correnti dei mafiosi che girano liberi per l'Italia perché su questo prato c'è gente per bene.